6 febbraio 1952. Elisabetta II, a soli 26 anni, diventa regina d'Inghilterra. Elisabetta, salita al trono dopo la morte del padre Giorgio VI, è anche capo del Commonwealth e governatore supremo della Chiesa Anglicana. Già dall'anno precedente la salita al trono, Elisabetta rappresenta il padre ammalato in moltissime occasioni pubbliche in giro per il mondo e proprio durante uno di questi viaggi all'estero, una visita ufficiale in Kenya, Elisabetta è informata della morte del padre. Elisabetta così è la prima monarca a essere lontano dalla patria al momento della successione al trono.